Un valore altissimo, vivere meglio, un progetto importante per i cittadini della nostra regione, l'opportunità di un'assistenza psicologica diventa fondamentale. Oggi, come sempre di più, lo potrà essere in futuro, avere l'ausilio di un'opportunità, in questo caso gratuita per chi potrà usufruirne, porta a tutti noi, rappresentanti istituzionali, l'opportunità e il dovere di darne una divulgazione. Offrire un aiuto concreto per il benessere psicologico delle persone colpite dagli eventi alluvionali in Toscana, Emilia Romagna e Marche, è l'obiettivo della seconda edizione di Vivere Meglio di Enpap, l'ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi, che promuove l'accesso agli interventi psicologici per ansia e depressione. Il progetto, presentato a Palazzo del Pegaso, è aperto a tutte le persone, ma ai cittadini che hanno vissuto un evento traumatico come quello delle ultime alluvioni, saranno offerti 1.600 interventi completi di consulenza psicologica o psicoterapia, 600 riguarderanno le province toscane di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. A spiegare il progetto, il presidente di Enpap. L'intervento è mediato da un portale, che si chiama viveremeglio.empap.it, per raggiungerlo. Il portale offre alcuni servizi gratuiti per tutti i cittadini. Fondamentalmente un servizio di screening psicologico, che restituisce poi un feedback sullo stato di benessere psicologico e l'utilità di rivolgersi a uno psicologo o a uno psicoterapeuta per essere aiutati. E fornisce anche servizi di autoaiuto, una serie di manuali, che aiutano le persone a comprendere il disturbo che stanno attraversando e, semmai, anche a utilizzare una serie di esercizi per migliorare la loro qualità di vita. Per le persone, invece, che abitano nelle province alluvionate, offriamo in questo periodo la consulenza diretta degli nostri psicologi e psicoterapeuti per interventi gratuiti per il trattamento di ansia e depressione sulla scorta degli esiti di questo screening che facciamo online. A chi si rivolge principalmente il progetto? Per quanto riguarda la Toscana, noi ci aspettiamo che il progetto coinvolga principalmente i giovani della fascia d'età 20-24 anni e 25-29 anni, che già dalla precedente edizione del progetto sono state le persone che si sono rivolte maggiormente ai nostri servizi di sostegno psicologico per la prevenzione dei problemi di ansia e di depressione. Con l'evento dell'alluvionale che c'è stato a novembre, questa fascia d'età viene particolarmente coinvolta rispetto a tutte quelle che sono la messa in crisi della progettualità e delle proprie relazioni familiari e sociali. La fascia 20-24 anni, ad esempio, si è trovata già a veder messa in crisi tutta una serie di eventi della propria storia di vita che sono caratterizzanti. Durante la pandemia hanno perso il diploma, hanno perso i primi anni in università, qualcuno la laurea perché l'hanno fatto tutti questi eventi online. L'evento alluvionale va ulteriormente a mettere in crisi la fiducia nel futuro e la sicurezza rispetto ai progetti futuri. Un evento traumatico come l'alluvione, come in genere le catastrofi naturali, sono eventi che possono rappresentare i veri e propri fattori di rischio per la salute mentale delle persone. Ovviamente questo non solo per l'evento nella data giornata in cui ha luogo il cataclisma, ma anche per tutti gli eventi successivi legati al disagio e alle perdite secondarie al cataclisma. Il nostro sistema antistress, infatti, è un sistema che funziona in maniera ottimale quando siamo esposti a un evento stressante e traumatico per un tempo breve, anche se molto intenso. Quando invece ci troviamo esposti a degli eventi che si ripetono nel tempo, che sono continuativi nel tempo, anche se magari di intensità decrescente o minore, ecco che questo ci mette in difficoltà. Il progetto si avvale della collaborazione della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Quello che ho potuto notare nei miei ambulatori è proprio quanto questi disturbi di cui abbiamo parlato, ansia e depressione, siano molto frequenti nelle donne, nei pazienti che avevano già un'anamnesi patologica positiva per le patologie mentali, ma quanto questo aumento di questi disturbi sia correlato all'entità del danno che i pazienti hanno ricevuto e al supporto sociale che hanno ricevuto. Quindi credo tantissimo nell'aiuto fondamentale che questo progetto dà, proprio come supporto per i cittadini, perché questi disturbi non diventino indelebili, ma come medico ci tengo tantissimo a sottolineare quanto sia importante il fatto che questi psicologi vengono ospitati nei nostri ambulatori. Quindi questo serve a rendere i pazienti consapevoli del fatto che l'accesso alla cura del corpo tramite il medico di medicina generale è allo stesso livello dell'accesso alla cura della mente. Lavorare nello spettacolo, quali tutele? Il tema che ha animato la discussione promossa dalla Commissione Cultura del Consiglio regionale nell'ambito degli Stati Generali della Cultura. Una mattinata di confronto con i sindacati di categoria sulle condizioni lavorative nel settore. Settore lavorativo molto particolare, dice la CGL. L'idea che ci è venuta e che oggi proporremo è proprio di preparare, fare un protocollo di osservatorio, con la regione di osservatorio sul mondo dello spettacolo per cercare di mappare e capire bene il contesto e di conseguenza poi mirare anche le politiche e le suggestioni che come naturalmente organizzazioni sindacali possiamo fare. Non ci sono oggi molti lavoratori perché naturalmente lavorano e loro non possono permettersi di prendere permesso sindacale o permesso personale per venire qui. Tra gli strumenti al centro della discussione è la cosiddetta indennità di discontinuità. Abbiamo visto che tanti lavoratori non stanno utilizzando il sistema perché è più penalizzante rispetto alla Naspi quindi rimane principalmente il primo obiettivo utilizzare anche per i lavoratori della spettacola la Naspi. Il problema è che i contratti come vengono fatti oggi da tante società che non rispettano pienamente i contratti nazionali portano a non raggiungere il minimo delle giornate nemmeno appunto né per la nuova normativa né per la Naspi normale. Quindi abbiamo l'idea di proporre stamattina una legge nuova da poter proporre o meglio cercare di appunto portare poi in votazione tramite appunto la legione toscana un nuovo sistema che possa dare più aiuto ai lavoratori e allo spettacolo. Quale potrebbe essere questo sistema che immaginate? In pratica, in definitiva, quando il lavoratore viene chiamato a lavorare se volentieri viene chiamato per una giornata, due giornate o se va bene anche una settimana. Questo sistema bisogna cercare di abolirlo nel senso quando viene fatta una produzione sappiamo che la produzione ha sempre una preparazione e quindi un termine largo minimo appunto dai 15 ai 30 giorni quindi il contratto minimo che dovrebbe essere fatto nel lavoratore dello spettacolo dovrebbe essere almeno in quella misura. Strumento che non serve a molto anche secondo la UIL. E quindi bisogna pensare a un'indenità che va a dare una risposta a chi lavora in questo settore dell'arte dove le ore di lavoro si misurano male come l'attività di un giornalista anche vorrei dire sono quindi attività che hanno tutta una serie di preparazione di studio che va oltre le ore di effettivo lavoro non si timbra il cartellino e quindi ci vuole un'indenità completamente diversa. Ma il vero problema poi al di là delle difficoltà specifiche del settore è le risorse. Bisogna che la politica italiana decida di investire nell'arte nello spettacolo e di fare un investimento serio. Noi si investe una parte di PIL ridicola quindi vengano fuori queste lemosine come modo per sostenere il settore che sono di per sé al di là della forma che è sbagliata il problema è delle risorse che ci si mette e non sono quelli sufficienti. Contributo importante quello ha portato al dibattito dalla direzione regionale dell'Inps. Le domande sono state presentate entro il 31 di marzo quindi siamo a metà aprile e l'istituto si prende tempo per legge fino al 30 di settembre di quest'anno per valutare i requisiti. Perché il 30 settembre? Perché fra i requisiti necessari diciamo soggettivi e oggettivi c'è un requisito reddituale devono avere non più di 25 mila euro di reddito. Ecco per verificare questo requisito occorre collegarsi con i dati del fisco e questi dati sapete che vengono implementati in sedi di ricazione di redditi maggio, giugno. Per cui ancora non abbiamo una quantificazione o un monitoraggio puntuale del numero di domande. Poi anche rispetto al numero delle giornate che vengono richieste vengono richieste almeno 60 giornate di lavoro nell'anno precedente anche questo per alcune tipologie di lavoratore dello spettacolo anche se sembrano poche sono tante perché un artista lirico è difficile fare 60 concerti all'anno. Ecco queste sono un po' le criticità. A sintetizzare la mattinata di lavoro la presidente della commissione istruzione che ha proposto un approfondimento da affidare all'IRPET per una fotografia del settore dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Il tema dello spettacolo è particolarmente rilevante perché abbiamo assistito in questi anni a una importante novità normativa e oggi vorremmo valutare lo stato dell'arte a che punto è quali sono le difficoltà di applicazione di questo strumento l'indennità di lavoro intermittente che sembrava appunto poter rispondere alle esigenze dei lavoratori dello spettacolo. Sappiamo che non è così che non è così accessibile e che ha parecchi limiti. Noi come Consiglio regionale possiamo fare almeno un paio di cose una è sollecitare i livelli istituzionali con atti di indirizzo perché si attivino per migliorare la legge l'altra cosa più puntuale è fare noi stessi una proposta di legge al Parlamento di modifica della legge che introduce l'indennità per apportare quei correttivi che emergessero come necessari. Il ricordo del lockdown e i primi momenti del ritorno alla normalità raccontati attraverso 60 scatti fotografici in bianco e nero che mostrano una Firenze deserta e quasi surreale. È Firenze Lockdown il libro che raccoglie il lavoro fotografico di Giulio Vannucchi presentato nella sala Fanfan di Palazzo del Pegaso. La mia passione per la fotografia abbinata alla possibilità di poter girare per Firenze in quel periodo mi ha fatto scoprire una Firenze inedita cioè una Firenze in cui all'improvviso sembrava magicamente fosse sparito tutto il turismo tutti i cittadini completamente vuota e quindi con la macchina fotografica sono riuscito a scoprire anche luoghi completamente vuoti che mi hanno praticamente emozionato perché sembrava a un certo punto che la città fosse tutta per me cioè che io viaggiassi per Ponte Vecchio e fosse tutto mio Piazza della Signoria fosse tutta mia e quindi questo con la macchina fotografica mi ha permesso di immortalare questo evento che speriamo non sia più ripetibile e lo stesso poi nello sviluppo del riaprire del ritornare alla normalità le persone che piano piano si sono riappropriate della loro autonomia del poter circolare tranquillamente e specialmente nei primi giorni di riapertura che si circolava con le mascherine vedere non si vedeva più gli sguardi delle persone perché coperte mascherine ma erano negli loro occhi che si andava a cercare quello che emozionava o almeno il riessere tutti insieme il poter comunicare tutti insieme In sala il Presidente del Consiglio regionale e la Presidente della Commissione Cultura il lavoro di Vannucchi dice colpisce al cuore perché fa rivivere una città deserta ferita e spaventata Chi l'ha potuta vivere in quei momenti egoisticamente si è trovato anche inebriato da tanta bellezza però ci ricorda il momento di una città di una comunità ferita in difficoltà disorientata spaventata e quella desolazione il bianco e nero che lui ha scelto sono davvero un modo per descrivere bene i sentimenti che aveva anche chi attraversava quegli spazi magnifici così belli ma anche inquietanti perché erano il segno di un messaggio di preoccupazione di un momento di difficoltà io lo ringrazio perché vive quelle sensazioni e vedere le sue foto oggi me le ha ricordate molto vividamente superfici del silenzio è la mostra inaugurata nello spazio espositivo Ciampi dei palazzo del Pegaso con le opere di Gianfranco Tognarelli artista nato a Pontedera classe 1949 l'emozione di un quadro spiega l'artista si coglie pienamente nel silenzio specialmente qualche anno fa era un po' più gioiosa ora la situazione che stiamo vivendo è un po' meno allegra se guardiamo le ultime opere Ombra Nera o anche Il buio della mente insomma non sono proprio anche se i colori forse restano ancora apparentemente allegri ma non sono non credo siano perché poi io credo che non sia l'artista quello che il più indicato a giudicare i suoi quadri Lui ha parlato di silenzio io parlo di musica di musica jazz di improvvisazione che io trovo dietro quest'arte a lui ha parlato anche di tristezza io ci trovo un grande un grande piacere nel senso che questa questa pittura è una pittura che può essere aperta a tante interpretazioni ma soprattutto è una pittura estremamente piacevole le opere in mostra raccontano gli ultimi 15 anni della produzione di Gianfranco Tognarelli è la parte diciamo della sua opera stratta incisa e pittorica un percorso di esplorazione dentro il mondo mentale di un artista che diciamo ad adere tanto al mondo di oggi in termini di messaggio di impegno e di coinvolgimento rispetto a quelli che sono i temi dell'attualità facendo riferimento alle opere qui nella mostra guardavo qui davanti a me l'opera là in fondo Profughi per esempio dove ci parla del dramma dei migranti dei naufraghi che lasciano i loro paesi e vengono in questi nostri vidi ostili Al taglio del nastro il vicepresidente del consiglio regionale che ha sottolineato l'importanza di avere uno spazio aperto agli artisti della regione toscana presente anche il vicesindaco di Pontedera Fa piacere vedere la valenza di questo pittore di questo concittadino che parte da lontano e arriva fino a questo ambito astratto dove i colori si fondono e danno delle sensazioni e delle emozioni importanti come abbiamo ascoltato anche dalla critica grazie a tutti a tutti Grazie per la visione!